In attesa che il mercato cambi volto alle protagoniste, dicembre prende il via sul campo nel campionato di eccellenza e nel girone A c'è il solito poker da tenere d'occhio per la vetta. La capolista Manfredonia, fresca di successo in Coppa in casa del Polimnia, cercherà il bis in trasferta nel domicilio di un Real City che sin qui ha fatto meglio nella versione con valigia da viaggio al seguito. Start alle 14.30, alla stessa ora tocca al Corato, chiamato a tornare al successo per accorciare le distanze dal primo posto, oggi pari a due punti, dopo lo 0-0 casalingo contro il San Marco. Curiosità per il Canosa, rinforzato dall'arrivo di Trotta, è chiamato a correre per accorciare il gap di sei lunghezze dalla cima della classifica. Il gruppo di Olivieri attende al San Sabino l'Ortanova, alle 16 fari puntati sul derby del Ventura, torna dopo quasi 70 anni l'incrocio tra unione calcio Bisceglie e Bisceglie. Di fronte il miglior attacco del torneo, quello del team di Rumma con 26 gol all'attivo e la difesa meno battuta d'Italia dalla all'eccellenza, quella della squadra allenata da Franco Cinque che sin qui ha incassato una sola rete in 11 partite. Programma completato alle 14.30 dalla sfida di Coda tra Foggia Incedite e Vigortrani e da San Severo San Marco alle 17 e Comola Borgo Rosso Molfetta. Nel gruppo B ha ripreso vigore la lotta per il primato, il città di Gallipoli, frenato nel derby dello scorso turno, ripartirà dalla sfida a casalinga con la vetrana Quinto. Lugento, che segue un punto, sarà ospite del Maglie. L'Otranto terzo a 23 va a Ginosa, va verso un'altra rinuncia il Castellaneta, che non dovrebbe giocare neanche contro lo Stuni. Alle 14.30 in campo anche Arborisbelli Manduria, Novoli Virtus Matino e Massafra Gallipoli Calcio.